Vedete qua alle mie spalle oggi dove ci troviamo, insieme a Zinazon siamo nel comune di Savona in Val Borbida e siamo presso l'EMPA, l'EMPA che cos'è l'ente nazionale di protezione animali. Qui all'interno c'è anche un canile, parleremo proprio con le responsabili, faremo anche degli appelli, vi faremo vedere questo magnifico posto che è stato proprio inaugurato qualche giorno fa e noi siamo ovviamente amici degli animali. Ci vediamo tra poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.